Ha presentato denuncia ai carabinieri di Cusano Mutri, corredandola anche di foto terribili, immagini che nessuno vorrebbe mai vedere, quelle di diversi cuccioli uccisi, massacrati. È la storia agghiacciante che arriva da una cittadina della Valle Telesina. Il 20 aprile scorso racconta sono stata contattata telefonicamente da una ragazza che vive a Pietraroia, che mi ha chiesto aiuto per dei cagnolini nati in strada e per la loro mamma. Tre cuccioli, infatti, erano già stati ritrovati morti. Nell'arco di 24 ore, purtroppo, sono stati uccisi anche gli altri. Quando ho raggiunto il luogo, prosegue, ho potuto solo constatare le morti e fotografare il massacro. Con calma ho parlato con i testimoni perché ci sono. Purtroppo non testimonieranno in quanto si conoscono tutti e ci sono anche delle parentele.